Parlare di violenza di genere, ma soprattutto parlare di rinascita da quell'abisso in cui si finisce una volta vittime di questi crimini. E' questo il focus su cui Confcommercio Marche Nord, Terziario Donna e Gens Nova si concentreranno venerdì 24 novembre in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una mattinata di convegno nella sede pesaresi di Confcommercio dal titolo Riesistiamo. Convegno che spazierà dalle testimonianze di violenza ma anche di rinascita di Melissa Scoccimarro, Patrizia Bellucci e Ambra Sansolini per poi analizzare strumenti di prevenzione come l'indipendenza economica e l'autodifesa sul luogo di lavoro con Barbara Strapazzini e Remo Grassetti. Nella conferenza di venerdì portiamo la testimonianza di due donne che hanno subito violenza, tra cui una che abbiamo seguito noi che ha subito una violenza sessuale a Rimini e vogliamo far vedere la rinascita perché l'abbiamo seguita personalmente non avendo orari, stando dietro alla vittima Elena nella parte legale, dopo abbiamo affiliato una psicologa, ma di non lasciarle sole specialmente dal momento che gli si dice di denunciare perché a volte le donne hanno paura e a volte proprio quando denunciano rimangono sole e lì sono nell'attimo che hanno paura di tutto. Il focus non tanto sulla violenza subita, anche se quella purtroppo è reale, quanto sulla loro rinascita, infatti il titolo del convegno è Riesistenza, cioè come anche dopo la denuncia è possibile rinascere e ricostruire la propria vita. Vogliamo parlare di educazione finanziaria e abbiamo evitato Barbara Strapazzini di VdB Banca che è un'esperta proprio di educazione finanziaria e tra l'altro vi anticipo che il secondo argomento è la prevenzione dei conflitti di gestione dalle situazioni critiche e di autodifesa nei luoghi di lavoro. Averrà a parlare Remo Grassetti di Mastery. E perché dopo l'ultimo femminicidio di ieri, quindi siamo arrivati a 106 vittime nel 2003, è d'obbligo parlarne, è d'obbligo riuscire a comunicare al meglio quali siano le formule preventive ma anche post denuncia da poter attuare per stare accanto a queste donne e perché non vogliamo ridurci al minuto di silenzio nelle aule, nei posti pubblici, in commercio. Noi vorremmo fare dei minuti di chiasso, dei minuti di parole, minuti nei quali dobbiamo riuscire veramente a trasmettere fiducia verso quelle persone che denunciano perché l'invito è denunciare quando sobbiamo delle violenze. ma anche l'aspetto preventivo perché appena riconosciamo i primi sintomi dobbiamo essere capaci di cambiare rotta prima che tutto diventi in realtà irrecuperabile.